e bella a tutti ragazzi e ragazze sono Isidoro che me ne montano un regalo per un nuovissimo video allora ragazzi oggi vi porto uno spacchettamento insieme a pokemon come potete vedere qui avanti ho comprato la ultra ball il negozio era l'ultima però quando sono tornato a casa ho trovato un problema che ho visto che ha una rientranza verso l'interno sia qui che qui come vedete è ancora imballata ho aspettato tantissimo per aprirla adesso l'apriamo insieme a voi ok si dovrebbe aprire da fine questa è la mia prima pokeball comunque quindi a me c'è una persona che vi voleva salutare ciao ragazzi intanto il video con lui sta andando bene quindi mancano un po' se mi sbaglio se non mi sbaglio siamo arrivati ai like giusti allora questo dobbiamo fare si però potevo aprire prima è un problema ecco ecco vediamo è tosta sta plastica ragazzi purtroppo non la posso mettere in collezione dopo anche se è aperta perché come già ho fatto vedere è rotta quindi cercherò poi di comprarne una intera la apriamo sempre ragazzi poi casomai ne comprerò un'altra potrò sempre uno spaccazzamento vi farò vedere prima cosa si uscirà da dentro così almeno da farla vedere in terra ok cosa fai cosa un attimo sta roba anche questo tieni ok ragazzi io penso che si apra no secondo me non ti devi aprire il bottone aspetta si sta aprendo però ecco ok vedete ragazzi è un poco fatta così qui dentro però non fa niente vediamo sono uscite sole, luna, tuni, perduti bella questa poi sole, luna, gioco di squadra abbiamo un'altra di gioco di squadra fai vedere bellina raga non mi ricordo che è questo cuffetto però è bella è anche la mia prima cosa vada qui c'è un'imperfezione però vedi c'è un coso nero vabbè fa niente allora raga io direi di iniziare dai due giochi di squadra no raga intanto però vorrei far vedere che sono uscite un poco sfigassate quindi c'è io apro questa no questa l'apro io questo me tu hai preso le luna a gioco di squadra questa qui ok raga apriamo intanto raga non so qual è il giochetto ragazzi facciamo vedo qualcosa che è lucidoso ragazzi io non dico niente allora raga facciamo così questo è un codicino per voi questo è il contrario prendetelo mettiamolo qui dentro visto che è per voi raga io non so qual è quindi provo a fare un due tre quattro sotto non lo so allora io ho paura raga io vedo qualcosa qui in basso io forse ho visto dorato se c'è qualcosa no io ho visto una tipo nera e blu allora stiamo avrendo ricordiamoci il gioco di squadra quindi che può uscire non lo so so che c'è il zekrom e pikachu come gx pikachu ok allora energia e no non facciamoli muovere troppe nitorino treverla insidiosa poi abbiamo itmonchan paunyard stario bello no ho visto qualcosa di dietro honenge ho visto qualcosa di dietro widdle drattini reverse ah no scusate trattini e questa è la reverse cabuto reverse a parte che è bellissimo anche l'effetto che ho fatto sotto guardate no raga scusate è argento no c'è un altro no di tipo normale c'è un altro cobalion gx bella raga questa posso spacchettare aspettate un attimo questa mi piace tantissimo guardate che gioco che fa di luce guardate bella bella non male aspettate un attimo dopo facciamo il resoconto di quello che abbiamo trovato intanto mettiamola qui guarda io vai apri allora aspetta mettiti qua perché sono aspetta 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 fammi dargli un attimo le carte vai vai no no apri allora fai così guarda mettiti così non si riesce aspetta te l'apro io e tu fai il ecco ok allora chiediamo fuori dai faccio io prendi il codice allora ragazzi quest'altro codicino è per voi mentre con la di tuoni perduti togli il codicino questo è il codicino ti faccio un attimo si vede bene si 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 vede si vede allora raga io intanto faccio il 3 e 4 comunque raga prima l'avevo fatto bene quindi io speravo di averlo sbagliato dici tu o dico io vai energia erba e la mettiamo qua Kakuna poi abbiamo Nidorino no metti così il dito guarda come il te la no guarda allora questa si chiama Nidorino già l'ho detto Nidorino fischetto dell'albitro fischetto dell'albitro poi abbiamo Hiloli Execute poi abbiamo Ferocid comunque le stai facendo vedere malissimo mettiti così poi abbiamo Meo Geodude poi abbiamo ricevitore di di Rotom come reverse vedete poi abbiamo Bidrill mantieni un attimo la videocamera che è così no lasciala lasciala ok forse allora raga in questo pacchetto non abbiamo trovato niente però già aver trovato co-billion chicks mi va bene quindi quest'altro è tuni tuni perduti aspetta è questo qua si tuni perduti ce l'hanno visto prima ragazzi questo è questo qua che avrà lui io so che dentro questo qua si trova lei lei c'è c'è l'hanno non esce da nessuna parte no in questa espansione non esce però intanto si aprono belle sembra un pollo non è un pollo ok codicino per noi visto che devo preparare anche il nuovo spacchettamento si tre e quattro buttiamo sotto allora ragazzi io non voglio vedere io spero veramente di non avere cos'è secondo me sorprese allora energia normale poi abbiamo contrapeso goguat poi abbiamo il latte mumu ok lagma piki pack brookzish poi abbiamo the den quanto è bellino a me the den mi piacciono gli artwork che hanno fatto però questo secondo me è uno dei più belli poi non lo so almeno questo è per me fatemi sapere qui sotto il vostro pokemon preferito voi abbiamo syndaquil goguat reverse niente primarina intanto ragazzi questo pokemon non lo conoscevo perchè alcune delle come dire espansioni precedenti le ho perse soprattutto quello gioco di squadra e sole luna non le ha aperte quindi facciamo un po' che è reso conto abbiamo trovato tante comuni e vabbè quelle sono normali le reverse e abbiamo trovato e abbiamo trovato quale mi piace delle reverse abbiamo trovato co-billion chicks allora intanto questo chissà che è anche buono per giocarlo online perchè è bella per parte che è bella come è messa non è un cane è un pokemon allora a parte che è perfetta quindi tanta roba non so quanto valga però di sicuro non la vendo perchè è una carta io non vendo carte raga perchè più che altro vuole fare la collezione le sto collezionando quindi non le vendo casomai se vendo vendo quando ne ho più di una due o tre diciamo però ne dubito perchè ogni carta è importante però raga il gioco di luce che fa a me piace tantissimo però è un tipo normale comunque tanta roba ragazzi allora se il video vi è piaciuto lasciate like commentate condividete iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale giusto questi sono i due codicini per voi ve li rifaccio vedere uno gioco di squadra eccolo qui l'altro sempre a gioco di squadra eccolo qui allora ragazzi fatemi iscrivetevi qui sotto nei commenti se volete un altro video del genere spacchettamento alla prossima ciao